Bella e bacia a mano. Come lei coltiva l'arte del dubbio, senza retorica, contro le certezze dell'ortodossia, come lei aveva il gusto del lavoro ben fatto, del tempo presente, come ogni essere padrone di sé non aveva alcun piano da seguire, solo un cammino da percorrere, lui, Thomas Munzer. Esattamente come lei, quando, il giorno del suo compleanno, uno qualunque dei tanti che sarebbero venuti, aspettava tranquilla che gli amici le regalassero un sacchetto di chicchi verdi, una storia d'altri tempi e un bacia a mano. Grazie.